salve a tutti amici e amiche nell'ultimo video ho parlato di quanto putin ha fatto male i calcoli prima di lanciarsi in questo conflitto sono rimasto molto contento delle vostre reazioni e dei vostri commenti dei nuovi iscritti siete i benvenuti quindi come accennato la seconda parte di oggi sarà dedicata ai numeri schierati in campo e a capire se la russia potrà permettersi di continuare ad andare avanti così come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace perché come avete visto nell'ultimo video c'è sempre una piccola percentuale che io chiamo affettuosamente il 5 per cento di utenti che proprio non gli va a genio che si parli della russia e per esperienza ho capito che questo vale a prescindere anche se se ne parla bene ci sono stati poi purtroppo dozzine di commenti da parte di bot che sono account fasulli che vengono praticamente schierati in massa su youtube per impedire a tutti i canali come il mio di parlare del conflitto semplicemente mettono commenti negativi mettono i dislike e in questo modo il video precipita negli algoritmi di visualizzazione quindi proprio in virtù di questo quello che potete fare per aiutarmi è lasciare un mi piace a questo video quindi prima di parlare dei numeri e delle perdite del conflitto capire soprattutto fino a quando la russia potrà sostenerlo diamo un'occhiata alle ultime notizie nell'area di voi ciasc le truppe ucraine che spingono già da giorni sono riuscite a liberare più isolati verso nord mentre nel piccolo complesso industriale e d'orzine di russi restano ancora intrappolati così nell'area di lipsi di cui parlano i telegiornali oggi fra l'altro ci sono state migliaia di vittime delle file russe negli ultimi giorni e proprio qui in quest'area ci sono state davvero grosse difficoltà da parte loro con fatti che racconterò più avanti in questo video a est parti del territorio nei presti di jampolivka sono state liberate anche qui i russi retrocedono mentre più a sud la pressione verso chiasi viar da parte russa incontra la resistenza ucraina e non ci sono stati i grossi cambiamenti negli ultimi tre giorni quella lenta conquista di poche centinaia di metri o decine a volte al giorno che abbiamo visto fino ad oggi ha subito un certo rallentamento nella zona centrale in quest'area vicino al donbass dove i russi hanno la maggiore intensità e più rinforzi quindi la storia è questa ma non è tutto negativo per i russi infatti nell'area di toresk poco più a est i russi sono riusciti a prendere il controllo di alcuni isolati nel villaggio di pdn faccio presente che tutto quello che ho appena detto in questi pochi giorni è costato sempre centinaia se non migliaia di vite umane mezzi e materiali questo teniamolo bene a mente a sud invece non ci sono variazioni di fronte da segnalare forse fra l'altro cambiando argomento la televisione russa farebbe meglio a dire alla popolazione che organizzare vacanze e prendere il sole in spiaggia in crimea non è poi no questa grande idea qualche giorno fa infatti un drone d'attacco al suolo ucraino è stato intercettato dal sistema di difesa russo i frammenti di questo sono in larga parte caduti in mare ma qualcuno ha raggiunto anche la spiaggia piena di bagnanti e ci sono state vittime ovviamente è una notizia terribile ma appunto sentire che la televisione russa ha strumentalizzato la cosa e si è indignata quando sono oltre due anni che l'aviazione e l'esercito non si fa scrupoli a bombardare le città e i civili ucraini beh no è un po la fiera dell'ipocrisia nell'area di sevastopoli sempre in crimea un paio di giorni fa gli ucraini hanno distrutto una postazione s 500 con un missile contestata a frammentazione il fatto che i russi abbiano schierato questa unità molto molto preziosa ad ampio raggio proprio in quest'area così critica significa che cercano disperatamente di difendere la zona ma un sistema di questo tipo senza mezza dozzina di sa 15 o sa 13 e sa 6 capaci di difenderlo significa esporlo pericolosamente a qualsiasi cosa ed è estremamente vulnerabile con i suoi enormi tubi di lancio basta un piccolo drone per farlo saltare in aria dalla danimarca è arrivata una notizia per cui il personale e i tecnici per garantire l'operatività degli f16 hanno finito il loro addestramento e questa è un'ottima notizia perché appunto la logistica per questi aeroplani è la cosa più impegnativa e anche più importante rispetto alla stessa formazione dei piloti bisogna chiedersi a questo punto fino a quando putin continuerà a insistere nel recriminare territori conquistati e non conquistati visto che non è più così scontato che riusciranno a tenerli anzi ci sono già territori liberati rispetto alle sue richieste dell'altro giorno e tutti i segnali che ce ne saranno presto altri soprattutto nel caso di un cessato il fuoco cosa farà la russia c'è una ragione per cui affronterò l'argomento dei numeri oggi e nasce proprio dall'inesorabile logoramento numerico a cui sta andando incontro la russia con i suoi attacchi continuamente respinti i soldati che in alcune zone cercano di ritirarsi mentre l'esercito ucraino sta tenendo meglio di quello che ci si aspettava almeno da una fantomatica offensiva estiva russa che in realtà nessuno sta vedendo e lì nei punti dove non riesce neanche più a spingere gli ucraini riescono anche a liberare porzioni di territorio questo è quello che sta accadendo e quindi bisogna chiedersi fino a quando putin continuerà a insistere con questa guerra sottolineo che i numeri di cui parlerò oggi sono indicativi che ci vorranno comunque anni per confermarli ma per adesso quelli che abbiamo possono darci un'idea in linea di massima a prescindere poi che questi numeri siano esagerati o meno è una questione statistica se la stragrande maggioranza dei siti di riferimento parlano di certe cifre qualcosa di vero nel mezzo ci sarà e poi concorderete che comunque fra mille e diecimila c'è un'enorme differenza ma quando tutti parlano di cifre fra i 300.000 e i 500.000 beh la faccenda non è più così importante nella differenza perché è un numero così alto che assume tutta un'altra gravità e connotazione bisogna prendere anche le fonti russe per quello che valgono le fonti ucraghine per quello che valgono che sono comunque quelle più pompate al ribasso o al rialzo ma sono comunque le dirette interessate e poi i dati più importanti che arrivano dall'intelligence europea ed americana e che ogni giorno da oltre due anni come vi ho mostrato anche nei video precedenti continuano a fare ricognizioni aeree raccogliere immagini satellitari e non solo quindi ho già parlato di questi aspetti in altri miei video considerando la difficoltà di fare analisi del conflitto perciò chi mi conosce sa anche qual è il mio metodo di nuovo metto le mani avanti qualcuno prima che si offenda lo dico perché oggi proprio parlerò della russia ed inizi ad accusarmi di essere antirusso filo europeo atlantista quello che per quella brutta abitudine tutta italiana di mettere sempre le etichette alle persone come se non fosse possibile avere un atteggiamento aperto il mio pensiero è che a prescindere in questa guerra sia abbastanza inutile criticare putin o la nato o pensare invece sarebbe meglio invece pensare alle centinaia di migliaia di soldati morti in battaglia no a prescindere da come vanno le cose come ho detto nel video precedente il governo russo era convinto che l'esercito avrebbe spazzato via le forze di resistenza ucraine e si sarebbe ritrovato con un enorme territorio conquistato nei primi giorni dell'invasione i russi riuscirono a raggiungere anche la periferia di kiev prima di essere respinti fuori dal confine almeno questo a nord e poi è arrivato il sostegno quasi unanime della comunità internazionale così putin si è ritrovato al passare da quella che credeva una campagna di poche settimane per denazificare una nazione che secondo lui chiedeva di essere liberata si è trovato invece fra le mani una vera e propria guerra una guerra che va avanti da oltre due anni e che si è trasformata in un enorme logoramento per la russia ma la russia poteva essere adatta a questo tipo di guerra secondo voi dopo tutto aveva il secondo esercito più potente del mondo giusto che avrebbe in teoria potuto mandare avanti il conflitto in eterno con milioni di soldati e migliaia di carri armati a proposito di questo mi ricordo uno dei primi commenti che ho ricevuto qui sul mio canale e che fra l'altro ironia della sorte ho ricevuto anche l'altro ieri stesso identico commento qualcuno tipo ha detto è ma la russia volendo può vincere la guerra in due giorni se vuole ok quindi il problema è che non vuole parlando seriamente nessuna nazione può produrre armi e soldati all'infinito e prima o poi incorre in quella che viene definita atrofia di guerra cioè quando finisce ogni cosa ogni munizione risorse e la produzione soprattutto non riesce a stare dietro al numero di perdite e iniziano anche a mancare i materiali e la fine e possono succedere cose terribili se soprattutto se i politici al governo non sono capaci di ammettere i propri errori per capire quello che sto dicendo inizierò parlando del pezzo forte dell'armata russa il carro armato partendo dai dati ufficiali la russia aveva prima del conflitto 14 carri armati t14 che sono i più moderni e usati per lo più nelle parate la cui produzione però è stata sospesa a causa delle sanzioni non avendo accesso alle componenti militari europee di cui sono fatti e poi parliamo del grosso con 4500 t90 nei depositi di cui 1300 efficienti e in servizio 6000 t80 di cui 1250 attivi e in servizio 9000 t72 di cui 2050 attivi ora i numeri dei carri armati russi il nome sta a indicare fondamentalmente gli anni in cui sono stati prodotti il t60 appunto è degli anni 60 il t72 degli anni 70 il t80 degli anni 80 e così il t90 ora la somma di tutti quelli che ho detto dei depositi è di 19500 carri armati in totale e quindi però è un numero come sappiamo che dobbiamo molto ridimensionare perché fra l'altro anche loro parlano di 4600 carri armati in servizio quindi 19500 e 4600 questa enorme disparità di numero vi dice niente non voglio arrivare a conclusioni affrettate ma ragioniamo insieme per un attimo il carro armato non è un mezzo semplice da mantenere gestire equipaggiare se pensiamo ad altri paesi per esempio con tecnologie e reddito pro capite anche migliori della russia ci rendiamo conto che c'è una sorta di proporzione una costante universale inghilterra e francia per esempio hanno poco più di 200 carri armati efficienti a disposizione ciascuno italia 200 di cui tra l'altro 80 operativi gli stati uniti 6612 carri armati ora uno direbbe ok sono paesi diversi con filosofie diverse e la russia da sempre alla dottrina dell'armata rossa da carro armato va bene ma la somma dei carri in servizio attivo in russia dichiarati è di 4600 carri che può essere stata senz'altro un numero plausibile e parliamo sempre di prima del conflitto i carri in deposito dichiarati dice 9500 beh per questi è tutto un altro discorso e penso che bisognerebbe essere molto cauti a riguardo perché le immagini satellitari questi depositi hanno sempre mostrato molto chiaramente che sono fondamentalmente distese di rottami spesso degli anni 60 della guerra fredda in generale quindi se dobbiamo considerare le unità che possono essere recuperate da quei depositi chiaramente non saranno così tante probabilmente saranno la metà ma su questo ci torneremo molte stime ufficiali volendo contemplare quindi un certo numero di questi carri armati nei depositi che possano tornare operativi li hanno portati a parlare di circa 14.000 carri armati disponibili è sempre un'esagerazione secondo me che non sta né in cielo né in terra cioè 14.000 carri armati quando per esempio gli stati uniti ne hanno 6612 ok dobbiamo considerare poi che tutti questi carri avrebbero bisogno di ottiche sensori cannoni munizioni e devono essere poi restaurati e ripristinati e sappiamo bene che no solo una parte di quelli può tornare a funzionare per questo motivo le pagine più realistiche di questi numeri parlando di carri armati parlano sempre di stime ma vanno appunto da un minimo di 2.800 carri armati russi efficienti fino a un massimo di 8.000 bene 8.000 vi sembra un numero plausibile fatemi sapere bene veniamo invece al numero di carri pesanti distrutti fino ad oggi dall'inizio del conflitto si parla sempre di stime che vanno da un minimo di circa 3.000 carri armati distrutti ad un massimo di 8.000 dall'inizio del conflitto per cui prendiamo per buona una stima al ribasso la minima di 3.000 carri armati distrutti su una disponibilità che va dal minimo di 4.600 carri armati dichiarati efficienti fino a un massimo di 6.000 7.000 8.000 quello che volete quindi per quanto questi numeri siano attendibili o meno poco importa stiamo parlando di migliaia in ogni caso e fra questi all'inizio del conflitto come sappiamo c'erano i loro migliori carri schierati in campo all'inizio delle operazioni cioè i t72 i t80 e i t90 ma come dire il problema non è tanto questo il numero ma la sostenibilità la russia ha una capacità di produzione dai 500 ai 600 carri armati all'anno cosa significa questo che il rateo di perdita dichiarato nei dati di oltre 1500 carri armati all'anno è molto più elevato della capacità di produzione russa ok e poi c'è un altro aspetto non meno importante che è nella loro architettura i carri armati russi sono famosi per esplodere in modo spettacolare e terrificante in tante immagini che circolano in rete e che non vi posso mostrare si vede sempre la stessa scena la loro torretta esplode sempre allo stesso modo come una sorta di tappo da champagne o prosecco quello che volete facendo voli anche di decine di metri verso l'alto a volte per poi ricadere giù per questo motivo se avete fatto caso tutti i rottami di carri armati russi che si vedono in tv sono quasi sempre scoperchiati con la torretta a metri di distanza e questo è dovuto al fatto che a livello ingegneristico il deposito munizioni si trova sul fondo del carro questo diciamo è una soluzione che permette una minore altezza del mezzo è una più semplice costruzione e di essere quindi meno visibile ma nel caso in cui il carro viene colpito l'equipaggio praticamente non ha il tempo neanche di pregare nei carri occidentali come abrams leopard la faccenda è molto diversa la torretta è diversa perché il deposito munizioni si trova nella zona posteriore ed esterna alla torretta questo significa che se questi vengono colpiti il deposito esplode verso l'esterno e quindi l'equipaggio può salvarsi evacuare il carro e così può tornare più avanti per fare un'altra missione e voglio dire gli equipaggi con la loro preparazione che è costata mesi e risorse alla fine dovrebbero essere molto più importanti del mezzo giusto evidentemente non in russia di conseguenza oltre a non poter sostenere la produzione con un ratio di perdita così elevato dobbiamo considerare che la russia deve anche sostituire gli equipaggi che 3000 volte 8000 volte a seconda di come volete leggere quei numeri diciamo è una scelta vostra il loro carro è diventato anche la loro tomba e fra le altre cose ognuno di quei 3000 carri aveva un equipaggio composto dalle tre alle quattro persone e quindi poi dopo parleremo anche dei numeri delle perdite della fanteria solo per gli equipaggi dei carri possiamo parlare di un numero compreso fra i 9.000 uomini e 20.000 carristi uccisi dall'inizio del conflitto ma comunque che siano stati 1000 o 3000 8000 i carri pesanti distrutti significa che siamo comunque molto lontani dai 600 prodotti all'anno che può permettersi la russia ammesso che siano 600 e fra parentesi la produzione dei carri non è neanche possibile oggi perché ottiche sistemi di puntamento materiali che venivano dalle aziende europee in particolari particolare tedesche non sono più disponibili ma questo è un altro discorso quello che è importante dire a proposito dei carri armati è che il ratio di perdita è diventato maggiore della capacità di produzione e questo è il primo indice di lo stesso discorso possiamo farlo con i mezzi blindati i russi dichiaravano 14.000 unità nei depositi e circa 9.000 mezzi corazzati efficienti per la movimentazione della fanteria fra i fv apc e diversi modelli tutti sempre abbastanza vecchi della guerra fredda con gli ultimi prodotti negli anni 90 con una stima al ribasso di 8.800 veicoli distrutti dall'inizio del conflitto che questi mezzi siano stati ampiamente distrutti beh lo sappiamo le abbiamo visti viste le immagini sono stati il bersaglio prediletto dei droni ucraini e poi questa immagine che vi mostro parla da sola i soldati oggi tendono a spostarsi con i golf cart ultimamente quindi se non usano addirittura a motociclette rottami di automobili scoperte eccetera eccetera i mezzi più improvvisati quindi anche per i carri leggeri e il mezzo di trasporto infanteria vale lo stesso discorso e questo è il secondo indice di atrofia sebbene la produzione di carri sia insufficiente per sostituire le perdite subite secondo harry boyd ricercatore ed analista militare del dipartimento della difesa degli stati uniti si stima che la russia comunque sia riuscita a mettere in campo fra i 1000 e i 1500 carri armati nell'ultimo anno fra il 2023 e 2024 affiancando la produzione già menzionata di prima che in teoria doveva andare fino ai 500 600 pezzi all'anno alla rimessa in sesto dei vecchi modelli presenti nei depositi ma chiaramente c'è un problema i vecchi modelli sono più vulnerabili alle armi moderne hanno sensori peggiori e secondo questi studi tra l'altro solo 200 dei 1500 carri armati schierati al fronte erano nuovi modelli mentre la stragrande maggioranza erano pezzi che non si vedevano in giro dagli anni 50 e 60 e voglio dire vedere un vecchio t60 con gli accrocchi sopra e la tartaruga e le catene per scongiurare un attacco dei droni è abbastanza esplicito e significativo per citare le sue parole mosca quindi è stata in grado di barattare la qualità con la quantità ha affermato boyd sottolineando che con questo ratio di perdita potrebbe continuare a sostenere la guerra per altri due forse tre anni pescando però sempre su riserve dei vecchi depositi ma resta il fatto che peggiori sono i carri più facilmente vengono distrutti dal momento che l'ucraina sta usando armi moderne a frammentazione arriveranno probabilmente le cbu 87 che ne faranno scempio dei carri armati droni che lanciano granate o semplicemente testate cave di rpg e anche le armi anticarro più semplici o la torretta da 30 mm del carro leggero bradley nelle mani degli ucraini lo abbiamo visto fare da anni e quindi insomma vecchi carri armati pescati dai vecchi depositi potrebbero essere eliminati in massa con questo ratio di perdita e l'enorme decadimento della qualità dei propri carri armati possiamo anche dire che anche vincendo la guerra in teoria la russia poi si ritroverebbe senza niente tra le mani in termine in termini di unità dei veicoli e dei carri armati secondo gli osservatori internazionali e gli studi comparati l'approccio della russia di ripescare vecchi veicoli e carri armati della guerra fredda e mandarli sul campo di battaglia è una soluzione molto provvisoria che può andar bene per adesso ma con l'avanzare nel territorio ucraino più in profondità questo li espone anche a enormi problemi logistici di manutenzione con un ritmo che diventerà insostenibile nel giro di pochi mesi quando si accorgeranno che bruciare le scorte della dell'era della guerra fredda non può portare la russia molto lontano a un certo punto le perdite di veicoli pesanti saranno così gravi e cercare di rimettere in funzione modelli ancora più vecchi sarà impossibile e la cosa peggiore è che secondo questi studi la russia avrà esaurito le risorse di veicoli blindati e carri armati nel 2026 il governo dell'estonia ha confermato tutto questo ragionamento con uno studio indipendente e dozzine di immagini satellitari per fornire numeri più precisi sulla quantità di carri armati e veicoli corazzati distrutti e la loro movimentazione dei depositi dei musei hanno confermato che le scorte russe si esauriranno a un certo punto fra il 2025 e il 2026 a questo punto uno direbbe ma perché la russia non incrementa la produzione di nuovi carri armati beh è semplice la risposta la riparazione è rimessa in funzione di un vecchio veicolo richiede un poco di metallo la sostituzione di un motore della radio e via è praticamente pronto a partire il punto è che per rimettere in sesto vecchie glorie non servono tante risorse e in questo momento la russia non ne ha tante costruire invece un carro da zero non è uno scherzo hai bisogno di materiali pregiati e risorse che le sanzioni ti impediscono di avere senza contare le componenti elettriche e le ottiche e i sistemi che sono principalmente di produzione europea anche questi adesso componenti preclusi dalle sanzioni e poi c'è il discorso della mano d'opera che per costruire un carro armato ne serve molta di più che rimettere in sesto una vecchia carretta con quello che si ha il problema principale quindi rimane che sul lungo termine le sanzioni impedirebbero comunque la produzione di nuovi mezzi in massa e certo la russia potrebbe importare dalla cina ma come dire la qualità cinese non è paragonabile a quella dell'occidente in ogni caso e proprio su questo aspetto bisogna ricordare che gli stati uniti hanno ripetutamente minacciato la cina di ulteriori sanzioni internazionali in questo senso sanzioni che la cina ha non ha nessuna intenzione ricevere hanno avuto già queste un effetto immediato con le maggiori banche del paese che si stanno ritirando dalle transazioni legate alla cina costringendo così molte aziende cinesi ad agire in clandestinità ma per quanto i due paesi cerchino soluzioni alternative di pagamenti in criptovaluta o in transazioni sotto banco bisogna chiedersi fino a quanto la russia sarà disposta ad aiutare il suo vicino che si sta scavando la fossa da solo soprattutto perché la cina ha altre preoccupazioni al momento e nel gioco internazionale non ci tiene proprio a fare la stessa fine della russia in ogni caso anche se la cina aiutasse in questo senso la russia è presumibile pensare che avvenga ad un ritmo lento ma questo ci pone di fatto a un aspetto chiave di tutta questa disanima sui numeri al fatto che la russia finirà presto le sue scorte e all'ucraina quindi non basta fare altro che resistere permettendo alle sanzioni di fare il loro corso e impoverendo così la russia e le sue scorte fino a lasciarla con un pugno di mosche in mano ma parliamo adesso dei soldati i numeri che vi sto per dire ripeto sono sempre indicativi all'inizio del conflitto i russi schieravano 315 mila soldati al fronte se voi stessi fate le ricerche vi accorgerete che ci sono pagine su pagine su internet che ne parlano che derivano da fonti comuni il più delle volte come la bbc e il dipartimento della difesa degli stati uniti al jazeera ci sono le principali testate giornalistiche internazionali e si va per le perdite con numeri che vanno dai 50.000 confermati nell'ultimo anno significa che questi 50.000 sono stati accreditati ci sono dei corpi ci sono dei riferimenti documenti c'è tutto per dire che ci sono sicuramente stati 50.000 soldati morti nell'ultimo anno e 27.000 nell'anno precedente quindi 77.000 confermati negli ultimi due anni di guerra e poi altri numeri tipo i 300.000 dichiarati dal governo degli stati uniti attraverso i dati di intelligence fino ai 450.000 dichiarati da fonti di intelligence francese e 508.000 dal sito ufficiale ucraino quindi dove sarà la verità a questo punto non direbbe poco meno di 100.000 300.000 400.000 508.000 converrete che in ogni caso si sta parlando di centinaia di migliaia di morti se 315.000 soldati erano stati mandati all'inizio del conflitto questi numeri comunque ci dicono che ad oggi la russia ha dovuto formare fondamentalmente due eserciti per combattere questa guerra chiaramente uno direbbe data la vastità del territorio e del numero di abitanti la russia è perfettamente in grado di farlo volendo voglio dire può mettere in campo milioni di soldati buttandoli nel tritacarne giusto per citare firepower che è una rivista annuale che mette un po insieme i numeri di ogni nazione prendendo giusto l'anagrafica del paese con 69,6 milioni di persone che potrebbero far parte delle forze armate 46,4 di questi sarebbero idonei al servizio militare e un milione e duecentomila adolescenti che ogni anno raggiungono la maggiore età quindi con questi numeri impressionanti verrebbe da chiedersi ma com'è possibile che la russia sia a corto di mezzi e uomini per la sua guerra anche con la perdita di 300.000 o 500.000 uomini che importa la russia avrebbe comunque abbastanza uomini per sostituirli tutti inviarli prima del necessario no quindi quali sono i motivi per cui questo non accade è appunto come diceva il tizio nei commenti l'altro giorno la russia non vince la guerra in due giorni beh le ragioni sono molteplici la prima è che quelle persone non vogliono andarci in ucraina nell'aprile del 2024 secondo l'associated press news sulla base di osservazioni sui media russi osservando la televisione russa più di 7300 soldati sono scomparsi dall'inizio del conflitto quindi potrebbe sembrare un numero irrisorio rispetto alle 300.000 unità mandate al fronte però se parliamo dei media russi forse un numero accettabile sarebbe quello di aggiungerci tipo due zeri a questo qua soprattutto perché si parla comunque di un incremento enorme rispetto a quello che è stato l'inizio del conflitto ma per esempio i di telesom il cui nome internazionale è get lost un'associazione di volontari di attivisti russi con sede in georgia che aiutano proprio i soldati russi a disertare e a scomparire dalla rete questa associazione ha pubblicato la sua statistica che afferma che solo il 3 per cento delle richieste che hanno ricevuto nel 2023 provenivano dai soldati russi che cercavano di lasciare l'esercito ma nel gennaio 2024 le richieste sono aumentate del 30 per cento numero 10 volte tanto ora è chiaro dobbiamo capire questi numeri prima di tutto questa associazione si trova in georgia che è molto lontano dalle retrovie il secondo punto è che immaginate un soldato al fronte che cerca di risertare lo può fare solo se ci sono certe condizioni se può farlo perché è vicino alla possibile alla via di fuga e poi c'è anche un altro aspetto il fatto che per esempio potrebbe avere famiglia in patria e potrebbe aver paura delle ripercussioni per i propri familiari ma questi numeri possono essere indicativi in ogni caso per un problema morale che potrebbe portare alla diserzione di un numero ancora maggiore di soldati russi nei prossimi mesi per tornare al discorso di prima per quanto riguarda la città di lupsi in questi giorni fra le altre cose come ho detto la controffensiva ucraina in questa zona nord ha visto un enorme numero di soldati russi arrendersi o cercare di fuggire tornare indietro nelle retrovie è una cosa terrificante che si è vista è che a quel punto i loro comandanti hanno fatto fuoco su di loro per una scena che non si vedeva dai tempi della prima guerra mondiale credo per questo motivo sono stato molto felice di sapere che di lì a poco l'artiglieria ucraina ha preso di mira proprio i loro centri di comando quei comandanti questi eventi che vi sto raccontando mostrano chiaramente che il morale delle truppe sta crollando su tutta la linea del fronte senza poi escludere l'enorme incremento di richiedenti asilo negli stati uniti in francia e germania con numeri come 57 mila nel 2023 con un incremento di più del 50 per cento ma a parte questo che come devo dire disersioni richiedenti asilo sappiamo che c'è stato un esodo di giovani russi tutti questi dati parlano di un problema di morale del fatto che tanta gente non vuole sentirsi coinvolta in questo conflitto quindi con 46 comunque uno direbbe con 46 milioni di soldati papabili e idonei al servizio militare e di un paese capace di sfornare più di un milione e 200 mila maggiorenni uno si chiederebbe ma a questo punto dove sono tutti quanti bene facciamo un ragionamento insieme molto semplice cioè proviamo anche solo per assurdo a fare un paragone fra la russia e l'italia l'esercito italiano è composto da 94 mila soldati non lo so adesso qualcuno dirà sì lo so vabbè i nostri sono volontari sono specializzati c'è un enorme differenza ci arriviamo però seguitemi un attimo nel ragionamento a livello proprio di proporzione l'italia come ho detto ha un esercito composto da 94 mila soldati se ragionassimo per anagrafe in realtà siamo 58 milioni in tutto 20 milioni di anni sono uomini di età compresa fra i 18 e 64 anni che significa che volendo l'italia ha un esercito di 20 milioni di soldati non credo proprio ma comunque se vogliamo fare un discorso coerente con i numeri delle nostre forze armate il rapporto ai civili e anche considerando le ripercussioni economiche che comporta sostenere un esercito su larga scala e questo fra l'altro vale anche per i mezzi e i carri armati la russia con 144 milioni di abitanti facciamo due conti è il triplo dell'italia quindi fate voi il calcolo in proporzione se l'italia ha quasi 100 mila soldati la russia quanti ne dovrebbe avere o dovrebbe permettersi di avere capirete quindi con questa logica che 300 mila soldati perduti in ucraina con questa prospettiva non sono pochi per niente visto che si sta parlando di un numero di tre volte tanto l'esercito italiano cioè per quanto uno possa mistificare le capacità della russia comunque la russia a livello di popolazione è tre volte l'italia quindi no vi tornano i conti e per questo motivo persino quelli che in russia hanno prestato servizio nelle forze armate in passato credono che mosca sia sul punto di restare senza personale e non sto parlando di una persona chiunque sto parlando di un ex comandante russo di nome igor ghirkin in un'intervista a gb news un canale televisivo britannico ha affermato che l'esercito russo dopo due anni di conflitto è stato decimato e che non è stata pianificata nessuna ampia offensiva estiva per il 2024 ora ghirkin non è un uomo qualunque ha una storia particolare e potete cercarla voi stessi è stato colonnello pluridecorato che ha partecipato alle campagne alle ultime campagne quindi alla crimea il donbass e ha partecipato lui stesso all'invasione ed è diventato famoso specialmente per le sue critiche a putin che gli hanno garantito indovinate un po un soggiorno in galera indovinate con quale accusa facciamo un quiz un gioco insieme provate a indovinare voi con quale capo di accusa è stato incarcerato ghirkin vi do la possibilità di scegliere fra tre buste la busta del tradimento la corruzione o l'estremismo lascio tre secondi per decidere ok chi ha detto estremismo ha indovinato e quindi insomma sarebbe come prendere il generale vannacci in italia e buttarlo in cella a vita per le cose che dice però ecco non confondiamo le cose a parte gli scherzi in russia nessuno può parlare male a putin voglio dire no è stato capace di dirgli che l'operazione speciale militare è fallita completamente come come ti permetti ha criticato il discorso di putin il 21 febbraio 2023 dicendo queste parole non una parola su fallimenti e sconfitte bla 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 non ha più senso ascoltarlo un'altra possibilità per evitare disordini è stata persa pochi mesi dopo a giugno 2023 ha affermato che se putin non è pronto ad assumere la guida sulla creazione di condizioni pronte per la guerra allora ha davvero bisogno di trasferire i poteri ma legalmente a qualcuno che è capace di fare il vero lavoro e poi ancora sempre ghirkin per 23 anni il paese è stato guidato da un malvivente che è riuscito a soffiare polvere negli occhi della popolazione ma il paese non sopravviverà ad altri sei anni del suo governo di questa vile mediocrità al potere e poi ancora un sacco di chiacchiere vuote il minimo di azione è la totale mancanza di responsabilità per i fallimenti questo è lo stile di putin negli ultimi tempi quindi come dicevo ad oggi ghirkin è prigioniero in russia con l'accusa di estremismo che poi per quello che ha detto nel suo caso suona un poco come dire sei un nemico dell'entusiasmo come dicevano i 5 stelle qualche tempo fa oppure fai attenzione alla pressione oppure non scaldarti troppo ma comunque ghirkin ha avuto un ruolo chiave nelle operazioni per annettere la crimea nel 2014 nella sua dichiarazione aveva inoltre detto che la russia si trova a un punto in cui dovrà tappare molti buchi nei suoi ranghi e che mosca non avrà praticamente nessuno per combattere la sua guerra a meno che putin non mobiliti almeno una parte della popolazione civile e di questa mobilitazione ci sono già segnali evidenti nel luglio 2023 putin ha dichiarato di voler aumentare l'età massima di mobilitazione a 70 anni 70 cioè cosa fai mandi avanti i nonni in guerra e finiti i nonni cosa ti resta i bambini da mandare avanti come fece qualcuno a berlino nel 1945 in due anni di guerra sono stati schierati praticamente due eserciti il primo è stato spazzato via la russia oggi si trova a fare sempre più affidamento su nuove reclute per rafforzare il proprio numero la formazione di un coscritto russo dovrebbe essere di almeno uno o due mesi di addestramento base seguito da un periodo compreso fra tre e sei mesi di addestramento avanzato prima di arrivare alle unità assegnate una volta ai reparti le nuove reclute dovrebbero essere affiancate da veterani per un ulteriore addestramento con personale che ha già visto la prima linea questo per prepararle almeno a un combattimento attivo mandare un soldato con meno di quattro mesi di addestramento non è proprio una buona idea ma per quello che appare evidente a tutti dall'inizio del conflitto la russia ci ha mostrato di aver schierato sempre riservisti abbastanza inesperti e che se sulla carta dovrebbero essercene due milioni meno del 10 per cento di questi riceve un addestramento moderno al combattimento mentre il resto viene mandato in battaglia così com'è e si vede dai risultati secondo gli studi di analisi militare dei servizi britannici che dobbiamo riconoscere almeno tutti riconoscono essere i più forti da questo punto di vista a livello internazionale dal punto di vista di formazione militare e truppe speciali secondo loro la russia di fatto avrebbe qualcosa come 5.000 soldati che possono essere definiti addestrati a livelli dei canoni occidentali parliamo di pochissimi fortunati forse speciali che ricevono un vero addestramento mensile regolare su standard qualitativi internazionali e tutto questo ci dice che le centinaia di migliaia di altri poveretti sono carne da macello la cui vita vale quanto una macchinetta per un campo da golf ma certo la russia se vuole vince la guerra in due giorni giusto certo come no la può vincere sui campi da golf con questo andazzo dire una cosa del genere fra l'altro dimostra la totale mancanza di rispetto per la vita di tutti questi ragazzi e soldati morti in battaglia e fra l'altro anche l'aviazione non se la passa bene c'è qualcuno ancora oggi chissà forse per antichi retaggi della guerra fredda che considera la russia ancora la seconda aviazione più potente al mondo se non la prima ovviamente questa è pura fantasia fra l'altro certe affermazioni mi fanno ridere tutti questi fan dell'aviazione russa in italia non si sono mai visti e voglio dire io sono vent'anni che ci sto dietro alla materia spuntano solo adesso boh non so perché forse per colpa del film top gun maverick forse avranno visto qualche post su facebook delle tipiche pagine di scam di propaganda russa che fra l'altro lì state attenti ma si infila come la peste o che ne so magari credono agli opinionisti televisivi politici o ex politici dell'ultima ora se fino agli anni 90 la russia aveva dei buoni aeroplani per il combattimento aereo almeno per quanto riguardava le prestazioni visto che le avioni che presto si sono dimostrate un po indietro poi comunque ha continuato a utilizzare vecchie formule e vecchi aeroplani è mancata un po di modernizzarsi cioè se non in una piccolissima manciata di nuovi velivoli che hanno subito degli upgrade e potete scrivere nei commenti quello che volete a questo punto che gli aerei russi hanno la spinta vettoriale e fanno il cobra per piacere queste sono idiozie cioè parliamo seriamente se avete conoscenze tecnologiche dal punto di vista militare perché io davvero non ce la faccio più a ripetere le stesse cose il ventunesimo secolo comunque ha visto l'avvento di tecnologie stealth e digitali per non parlare dei materiali compositi per cui sono richieste capacità industriali che sono appannaggio di pochissime aziende europee e statunitensi al momento le migliori tecnologie aeree sono appunto in europa e america con la cina che cerca di stare un po a ruota ma appunto la russia scivola di posizioni e un po ha perso il treno per portarsi ad uno standard di qualità efficienza e preparazione dei piloti alle tattiche moderne e ai sistemi moderni in due anni di guerra le stime più attendibili e che hanno delle corrispondenze con foto video e rottami sparsi per l'ucraina piloti catturati fuggiti o deceduti parlano di 342 aerei militari abbattuti molti di questi fra i migliori che aveva la russia in servizio un numero enorme se consideriamo che è praticamente quasi la metà di tutte le forze aeree russe decenti di velivoli moderni esclusi proprio i vecchi rottami della guerra fredda e quasi altrettanti elicotteri fra i più vecchi milotto mi 24 senza escludere macchine costose e di difficilissima sostituzione come il k 52 e k 50 che sono fra i più costosi elicotteri da combattimento mai costruiti sostituire un su 34 o un su 30 non è roba da poco per non parlare dei piloti in occidente si dice che la parte più costosa di un aereo è il pilota ok perché l'aereo lo puoi sostituire ma un pilota no non ci vogliono cinque giorni per fare un pilota come il soldato ivan che viene mandato con il kalasnikov avanti ma comunque non è la perdita di questi 340 aerei in combattimento né il fatto di tenere in volo le vecchie glorie il vero problema qua è più che altro il fatto che la maggior parte dell'aviazione russa è composta da macchine obsolete che stanno raggiungendo molto velocemente la fine del loro ciclo operativo soprattutto perché vengono impiegati in un contesto operativo le loro tattiche poi dimostrano anche una cosa molto particolare perché li vediamo utilizzare tattiche lanciando vecchie bombe fab per carità modificate con le ali ma soprattutto in tecniche di volo disperate con lanci in parabole definite toss per azioni fuori dal confine che ok ci stanno però parliamoci chiaro questo significa che sono un po l'ultima spiaggia delle cose che farebbe un'aviazione moderna soprattutto se pensiamo che in teoria questo doveva essere un conflitto asimmetrico per la russia giusto dove c'era un rapporto di 10 a 1 c'è più di 1500 aeroplani contro i 100 dell'ucraina voglio dire se non sono mai riusciti a ottenere la superiorità aerea qualcosa significa se si tengono fuori dallo spazio aereo ucraino quindi quel tipo di tattiche che ho già affrontato in uno dei miei video in risposta ad andrea lombardi lo vedresti fare ad una nazione disperata che non ha più niente da perdere e infatti questo che vi mostro è proprio un mig 29 ucraino dopo due anni di guerra ancora volano fare esattamente questo pochi giorni fa è stato ripreso in un video mentre realizzava un tipico attacco in toss perché appunto quello che poteva fare era avvicinarsi basso salire sganciare le bombe a palombella e tornare indietro però appunto tenersi a distanza dal confine ucraino significa che per l'aviazione russa le cose stanno molto molto male la produzione poi dei migliori aerei russi come il su 30 e il su 34 e di circa 20 aerei all'anno anche questo dato non riesce a tenere il ritmo delle perdite e dell'obsolescenza della flotta già schierata in campo quindi fare affidamento su aerei vecchi dell'era sovietica che presto non saranno più in grado di volare e non si riesce e non uscirà a portare avanti la produzione tra l'altro dell'aereo più moderno il su 57 a causa delle sanzioni posto che fra l'altro il su 57 non è l'arma definitiva non è neanche un aereo multiruolo ma poco più di un su 30 troppo grande e fuori posto in un contesto di guerra moderna elettronica beh che per carità è anche bello esteticamente ma il su 57 bisogna considerarlo come il t14 un aereo buono per le parate pochissime unità questo pone comunque grandi interrogativi su come saranno gli assetti russi quando questa guerra finirà pone grandi interrogativi proprio per il fatto che la guerra gli sta prosciugando le risorse la discussione sulle condizioni in cui si trova la vks che è l'aviazione russa è proprio drammatica e al di là della mia ammirazione per l'estetica e le prestazioni di alcuni aerei russi i problemi di vertice che ho menzionato si riflettono sulla salute della forza aerea in generale bisogna poi considerare il ritmo di preparazione dei piloti di 100 150 piloti che finiscono l'accademia ogni anno e che si ritrovano freschi di accademia a dover combattere una guerra contro veterani fondamentalmente per quanto riguarda la marina la situazione è drammatica e non credo neanche che abbia bisogno di essere descritta perché tutti ormai conoscono la situazione della marina russa nel mar nero perché a parlarne un po mi sembra di prendere a pugni un uomo anziano seduto sulla tazza del gabinetto credo che la flotta russa nel mar nero sia l'unica al mondo ad aver subito perdite per un terzo del proprio organico contro una flotta ucraina che non è mai esistita a causa di errori fatali contro missili droni droni marittimi e aerei e chi più ne ha più ne metta ogni affondamento è una storia a parte ma con lo stesso copione scarsa efficienza nessuna protezione aerea e ho già trattato un caso su tutti l'affondamento della moscava vi lascio il link in descrizione se lo volete vedere anche nel caso della marina russa le unità perdute sono molto difficili da sostituire i migliori componenti navali per quanto riguarda sempre motori e turbine provenivano dalla germania e dall'ucraina così per i sistemi di puntamento come dire oggi questi paesi non sono più disposti a cederli e quindi queste perdite di navi per i russi sono piuttosto insostituibili quindi la situazione in generale quindi è questa e non è anche parlato degli aspetti logistici con dozzine di esempi di soldati mandati al fronte senza equipaggiamenti con razioni scadute da sette anni che ripresi in video chiedevano aiuto perché i loro comandanti li avevano mandati avanti senza niente senza fuoco di supporto senza spiegazioni così con un fucile in mano le notizie dal fronte più recenti parlano di difficoltà estreme nel trovare nuove attrezzature e materiali per continuare la guerra e lo stesso per la produzione di munizioni con putin costretto a mordersi la lingua davanti al peggiore dei dittatori la feccia del pianeta in corea del nord giusto per chiedere un poco di munizioni e altri uomini da buttare nel tritacarne magari in cambio di un poco di cibo visto che in corea del nord la popolazione sta letteralmente morendo di fame tutto questo quindi ci porta alle conclusioni finali la russia dispone di mezzi sufficienti per affrontare la guerra per quanto ancora putin insisterà prima di riconoscere di aver fatto un errore colossale probabilmente la russia potrà continuare a combattere per i prossimi 12 24 mesi un anno o due ma a costo di vedersi spazzare via tutte le risorse militari che ha a disposizione per una stima di perdite con i ritmi attuali che potrebbe raggiungere il milione di morti in quattro anni di conflitto quindi ne vale la pena per una guerra di invasione e perché cosa per trovarsi poi senza niente in mano e continuare a rivendicare territori che non ha mai conquistato e che sono ormai un cumulo di macerie e ragioniamo per un attimo insieme se vincerà penserà poi di ottenere sconti internazionali sulle sanzioni che gli verranno abbonate perché ha vinto sarà in grado di riparare i danni arrecati al paese che voleva liberare per ricostruire la rete sociale le città le scuole gli ospedali le fabbriche i campi bonificare i campi dalle mine che ha piazzato che faranno fra l'altro stragi di bambini e contadini per generazioni a venire e per far dimenticare agli ucraini quello che ha fatto l'esercito russo come farà e nel caso contrario se dobbiamo dare credito alle notizie recenti di un collasso del suo esercito e che gli ucraini riprenderanno in mano i loro vecchi confini cosa farà lo zar continuerà a insistere a chiedere territori che non ha conquistato come se fosse un ultimatum a quel punto forse qualcuno dei suoi aduratori gli dirà che ha perso la guerra un poco come accadde mi viene in mente hitler che era chiuso nel suo bunker e scopriva all'ultimo momento e all'improvviso che il grosso dei suoi generali gli aveva mentito sistematicamente per anni per evitare appunto di essere fucilato quando praticamente gli alleati ormai erano arrivati a berlino e se la russia quindi perderà questa guerra potremmo finalmente processare lui e i suoi generali per i crimini di guerra commessi e sarebbero poi in grado di pagare per i danni fatti al paese all'ucraina ma anche alla stessa russia a questo punto mi chiedo se non sia il momento perfetto per una rivoluzione russa come è sempre avvenuto nella loro storia che le fanno sempre all'improvviso giusto per far cadere lo zar però non iludiamoci perché nella storia russa sono sempre stati sostituiti con uno uguale se non peggiore quindi cari amici con queste domande e queste pessime riflessioni me ne rendo conto chiudo questo video magari ecco la prossima volta parleremo giusto di aggiornamenti fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti come sempre un abbraccio alla prossima